Il Merletto, architettura di fili, è questo il tema della tredicesima edizione della Biennale Internazionale del Merletto, dedicata ad Andrea Palladio nel 500esimo anniversario dalla nascita del celebre architetto del Rinascimento, avvenuta a Padova nel 1508, con madrina della rassegna il noto architetto italiano Gae Aulenti. La Biennale, organizzata dal Centro Culturale di Sansepolcro e dal suo fondatore, il poeta e pittore Paolo Piovaticci, è l'evento che porta nel borgo di Piero, da varie parti del mondo, opere d'arte e di artigianato artistico di alto valore culturale, contribuendo a fare della città, già conosciuta per la sua tradizione di Merletto a Fuselli, Atrina a Spilli, risalente all'inizio del secolo 900, uno dei poli espositivi europei e mondiali del Merletto, oltre che un centro turistico d'eccellenza, poiché la rassegna apre i battenti proprio nel periodo delle manifestazioni rinascimentali settembrine. Sul solco della sua consolidata storia, anche questa edizione della Biennale, che ne segna il 25ennale dalla fondazione, avvenuta nel settembre del 1983, si prefigge l'incontro prestigioso e fruttuoso di scuole e tendenze tradizionali e contemporanee, di incoraggiare lo sviluppo innovativo di questa arte in campo didattico e produttivo, nell'ottica della società che cresce, e di consolidare la sua sede italiana come punto di riferimento per l'unificazione culturale e fraterna dei popoli. Si tratta di una rassegna articolata in mostre di merletti con spazio anche ad esposizioni di collezioni personali e iniziative culturali e collaterali. Per quanto riguarda le mostre, la Biennale sviluppa la sua esposizione in sette settori, che accolgono distintamente i merletti dei paesi europei e dei paesi extraeuropei, delle regioni italiane, quelli di Sansepolcro e Alta Valle del Tevere, e della Scuola di Sansepolcro, del concorso internazionale e moda contemporanea. Alle mostre tradizionali di merletto della Biennale si aggiungono in questa edizione mostre come Meraviglie di filo di Maria Luisa Baragli-Bastiani, dedicata alla grande maestra Beturgense, la mostra personale di abiti di moda contemporanea della collezione Teresa Litrico, lo stand Coatz Cucirini, il tutto dislocato in vari luoghi e spazi espositivi, tra i più prestigiosi e suggestivi del centro storico cittadino, da Palazzo Inghirami all'auditorium di Santa Chiara, dalla sala Don Pietro Zazzari dell'Oratorio della Madonna delle Grazie al Palazzo Pretorio, con la sala esposizione e lo spazio espositivo della locale Scuola di Merletto. Tra le iniziative culturali invece spicca il concorso internazionale a tema con le due sezioni Merletto e Disegno, al quale partecipano artisti di ogni paese, sesso e età, colore e fede religiosa, ed è rivolto alla ricerca di nuovi linguaggi artistici, con l'abbandono dei vecchi stili disegnativi, nell'ottemperanza rigorosa delle tecniche tradizionali di lavorazione con ago, fuselli, uncinetto e zimilia.